siamo ancora a concludere queste interviste siamo in compagnia di bernardino che il presidente del cvs della diocesi di ariano irpino ciao bernardino come è andata la giornata oggi a valleluogo è stata una bellissima giornata tutti uniti dopo il lockdown che abbiamo fatto della pandemia finalmente ci siamo uniti per l'incontro regionale della programmazione senti rispetto agli altri anni è stato un incontro diverso particolari particolare infatti sì l'ho sentito veramente in forma diversa dalle altre volte l'ho partecipato pure altre volte ma questa volta è diverso perché sempre il problema l'affanno della pandemia senti il cvs può dare un contributo rispetto diciamo al nuovo anno pastorale alla tematica che abbiamo vissuto e riflettuto quest'oggi come ha detto anche la sorella angela dobbiamo incendiare il nostro gruppo in senso buono tra virgolette del termine dobbiamo muovere un po le anime che hanno paura ancora del di questa pandemia e quindi portare la nostra testimonianza anche nel sociale anche adesso mi pare che se fai anche attività sportiva si faccio parte del del badminton della nazionale italiana para badminton dei ragazzi disabili quindi io mi ho messo tante foto per avvicinare queste persone a questo sport perché poi uno si può divertire diversamente e avvicinare anche visitare luoghi diversi da noi quindi la spiritualità la fede che si fa anche gesto azione sportiva senz'altro e allora se volessimo dare se vuoi dare un messaggio ai giovani che ci stanno guardando cosa diresti per quanto riguarda questa esperienza nel cvs ci può essere che nella chiesa verso un'azione pastorale verso il malato che deve essere soggetto attivo cvs ci insegna l'amore per dio per noi stessi per tutti per gli amici per nemici per tutti quindi è un amore fraterno quindi possiamo essere terra buona per fare in modo che questo albero possa portare frutto e possa consegnare questo frutto ai giovani alle nuove generazioni senz'altro buoni frutti ottimi frutti va bene ti auguriamo il meglio a te e al cvs di ariano anche a te ciao buona buon proseguimento ciao grazie